Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore Un ex naufraga dell'Isola dei Famosi di recente si è lasciata andare ad una confessione del tutto inaspettata Solo pochi mesi dopo essere uscita dal reality, infatti, potrebbe fare una mossa del tutto improvvisa, che ha spiazzato tutti i suoi fan Isola dei Famosi, l'ammissione dell'ex naufraga, l'Isola dei Famosi è volta ormai al termine, ma dei protagonisti si continua a parlare ancora Del resto, questa è stata l'edizione più lunga di sempre e, dopo aver trascorso più di tre mesi senza cibo, senza un letto comodo, senza poter fare anche semplicemente una doccia calda, non possiamo dimenticare gli ex naufraghi Si parla spessissimo del vincitore, Nicolava Poridis, che è stato un personaggio abbastanza controverso fin dall'inizio del gioco e forse, dati alla mano sui podi dei reality proprio questo gli ha permesso di vincere Ma non solo di lui, quasi tutti gli ex protagonisti dell'Isola dei Famosi stanno rilasciando spessissimo interviste, dichiarazioni e ogni tanto si lasciano andare anche a confessioni inaspettate Tra questi, ce n'è una in particolare, che di recente ha ammesso di avere voglia di fare qualcosa di molto particolare Nessuno poteva immaginare che proprio lei avrebbe detto quello che di fatto ha detto Ecco di chi si tratta e quali sono state le sue dichiarazioni L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi in questione è Gwendalina Tavassi, ma in realtà ha portato con sé anche se virtualmente anche suo fratello Edoardo Entrati come coppia nelle reality, i due hanno fatto divertire tantissimi tutti con i loro siparietti Poi lei ha scelto di tornare in Italia quando ha potuto decidere se accettare il prolungamento del gioco oppure no e successivamente anche lui ha dovuto abbandonare il gioco a causa di un infortunio al ginocchio a pochi giorni dalla finale A distanza di un mese circa dalla fine dell'Isola dei Famosi, i due si sono autocandidati per il GF e Vib7 A riportare la notizia è stato Alessandro Rosica, esperto di gossip Per Gwendalina questa non sarebbe la prima volta nella casa più spiata di Italia, dal momento che sappiamo che la sua carriera in tv ha avuto inizio proprio grazie al grande fratello nel 2010 Oggi però per lei sarebbe diverso, tornerebbe in qualità di VIP, conoscerebbe bene le dinamiche del gioco, avendolo già fatto una volta, ed inoltre ha avuto modo di esplorare a fondo i meccanismi dei reality in generale, avendone fatto nel frattempo anche un altro Tramite i social, ha infatti detto, se fossi un autore prenderei me, mia madre e mio fratello al grande fratello Non sarebbe stato una cosa troppo troppo divertente? Allora voglio lanciare questa idea, questa piccola lampadina agli autori Anzi li sto proprio pregando, ma prendeteci che cosa ci fate con quelle mummie là dentro Della stessa idea, suo fratello Edoardo che, intervistato durante il programma non succederà più di Radio Radio Ha detto che entrerebbe a far parte del cast del GF VIP 7, dal momento che gli piace l'idea di stare in una casa con tutti i comfort, a differenza di quanto accaduto sull'isola Ha poi alla fine aggiunto, se Alfonso mi chiamassero farei probabilmente sì, ci andrei Il messaggio appare quindi chiaro, diretto, conciso, entrambi entrerebbero nella casa più spiata di Itala Non ci resta che attendere se Alfonso Signorini accoglierà la loro candidatura Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme Ci vediamo nei prossimi video, fino a quando ci incontriamo nuovamente